Nuovo colpa al traffico illegale di droga via web, la squadra mobile della questura di Lecco con il servizio operativo centrale della Polizia di Stato ha coordinato l'esecuzione di 27 perquisizioni in 17 province italiane tra cui Sondrio nell'ambito dell'operazione IDC, già nota come una delle più importanti nell'ambito dell'attività criminale attraverso il Darknet. Durante il blitz è stato arrestato un 19enne dalla provincia di Potenza in quanto trovato in possesso di hashish e marijuana, nonché di una coltivazione artigianale di quest'ultima sostanza individuata nei pressi della sua abitazione. Denunciate anche altre 8 persone perché detentori di considerevoli quantitativi di droga naturale e sintetica da destinare allo spaccio. Le perquisizioni hanno interessato tra le altre le province di Milano, Firenze, Venezia, Bologna, Verona, Trieste, Udine e Salerno.